Il Barbiere, in collaborazione con Ottica Vidori, professionalità e qualità. L'Urateca Civio Buongiorno, buon pomeriggio a tutti e benvenuti alla Domenica del Barbiere. Emergenza coronavirus sempre più concreta e allarmante. Infatti non solo il campionato è stato sospeso, giustamente, ma anche l'Europa League e la Champions League. Ma noi siamo sempre presenti per accompagnarvi in questa Domenica pomeriggio un po' particolare. Quindi comunque tante saranno le cose di cui parleremo e sul futuro del calcio. Quindi buongiorno Furio. Ciao Melissa, bentornata. Siamo qui. Non saremo soli perché abbiamo tutta una serie di collegamenti via Skype e di notizie ce ne sono. Provengono sia dal campo, sia dalle stanze del calcio e dello sport in genere. Fra poco ci collegheremo con Emanuele Tramacere per fare il punto della situazione sull'agenda di questo mese di marzo, sugli ultimi giorni, ma soprattutto su quella che rischia di essere un'estate incandescente, non solo dal punto di vista meteorologico, perché se verranno spostati, come sembra, i campionati europei, praticamente di un anno, la data iniziale quest'anno era per il 12 giugno, invece sarà probabilmente per il 12 giugno del 2021, se avverrà questo spostamento ci sarà la possibilità di poter spalmare la parte finale di questo campionato per poi tenere conto anche di tutta una serie di spostamenti e di slittamenti di quelli che potrebbero essere ad esempio la Coppa Italia, mentre l'UEFA poi dovrà decidere il calendario di quello che resta sia della Champions League che dell'Europa League. Siamo in attesa appunto di collegarci con Emanuele Tramacere e in sintesi si può dire che i calciatori, il calcio è fermo sotto tutti i punti di vista, molte società hanno deciso di prolungare almeno fino alla prossima settimana quelli che potrebbero essere gli allenamenti per riprendere in qualche modo l'attività e soprattutto per tenere in forma i calciatori, tutti sono nelle loro abitazioni e ovviamente hanno ricevuto dei programmi dettagliati dai club per quello che può essere, se non un allenamento, diciamo un lavoro, circa un'oretta al giorno a casa per mantenere comunque tonico lo stato dei muscoli e anche per essere pronti ovviamente a qualsiasi tipo di evenienza. Però Melissa ricordiamo che ovviamente c'è la possibilità di essere collegati con noi, di poter parlare con noi attraverso i nostri numeri. Esatto, più del solito per qualsiasi domanda, commento, considerazione potete sia chiamarci al numero fisso 031 33 00 655 oppure inviarci un messaggio whatsapp con il numero 335 70 84 396. Esatto, quindi aspettiamo le vostre domande, le vostre considerazioni, il momento è difficile non solo per il calcio e lo sport ma ormai il coronavirus ha toccato praticamente tutti gli stati del mondo, l'Italia ha avuto la forza, la bravura di anticipare i tempi siamo in vantaggio almeno di un paio di settimane rispetto a gran parte del resto del mondo e soprattutto a gran parte del resto d'Europa quindi la settimana che inizia sicuramente sarà importante ma avrete, ne saprete di più alle ore 19.30 perché ci sarà un Tg qui a Espansione TV dove avrete gli aggiornamenti per quanto riguarda appunto il procedere, l'evoluzione della situazione per quanto riguarda, ripeto, il problema del coronavirus e tornando a quelle che sono argomentazioni di calcio e di sport ma soprattutto di calcio martedì sarà una giornata importante perché l'UEFA si riunirà per conoscere esattamente da tutti i presidenti di federazione qual è la situazione nei singoli stati, quindi dovrà prendere una decisione importante, ha già anticipato di una settimana quella di sospendere la Champions League e l'Europa League ma adesso si tratta di definire, come dicevo, il destino degli europei europei che quest'anno avevano un significato particolare, trattandosi del sessantesimo anniversario della fondazione dell'UEFA si era voluto allestire un'edizione itinerante, praticamente un campionato spalmato su 12 stati con altrettanti città simbolo Roma per quanto riguarda l'Italia avrebbe dovuto, dovrebbe o avrebbe dovuto meglio, ospitare gli incontri di qualificazione della nazionale di Mancini a maggior ragione trattandosi di una situazione così dilatata da un punto di vista geografico è consigliabile, anche se si dovesse uscire come auspicabile dalla crisi del coronavirus sarebbe auspicabile e sarebbe meglio ovviamente posporre di almeno un anno questa manifestazione si parlava di qualcosa che potesse avvenire o nel periodo natalizio ma le partite sarebbero troppo compresse, tanto o meno potrebbe essere effettuato in autunno quando praticamente poi dovrebbero partire non solo le leghe nazionali, la Serie A tanto per essere chiari ma a maggior ragione la Champions League e l'Europa League Intanto sul tablet abbiamo qualche... Intanto abbiamo già Daniel Pisani in linea Perfetto, Daniel Daniel Buonasera Melissa, buonasera Furio Ciao Daniel, buon pomeriggio e grazie ovviamente per essere intervenuto Con te parliamo di Juventus Come sta affrontando la Juventus questo momento molto delicato? Juve in quarantena, anche lo stesso presidente Agnelli ha deciso di mettersi in quarantena Sì, intanto grazie a voi che siete sempre una grande compagnia Hai detto benissimo Furio La Juventus ha ovviamente questa novità importante che probabilmente non sarà un caso isolato purtroppo mi verrebbe da dire perché in men che non si dica il giorno dopo è toccato alla Sampdoria la quale addirittura è arrivata a sette elementi della rosa che sono risultati positivi al coronavirus la Fiorentina lo stesso ma direi che sicuramente l'esempio del presidente sarebbe da prendere da parte di tutti e sicuramente tutti lo faranno da questo punto di vista perché dimmi Ecco Daniel, si fa già una data almeno per quello che riguarda la ripresa della preparazione degli allenamenti o è ancora troppo presto? Direi che ancora troppo presto io credo che prima di tutto tra l'altro era uscita quella che si viene definita una fake news riguardante Di Bala la Juventus ha smentito drasticamente che Di Bala possa essere positivo al coronavirus al momento non ci sono altri giocatori sono in quarantena 121 tesserati della società Juventus direi che per il momento è veramente prematuro poter cercare di immaginare una ripresa ormai diciamo così che il calcio si è trasferito sia nell'immaginazione sia nella fantasia e direi, aggiungerei io anche un po' nella speranza di quando si potrà riprendere come si potrà riprendere, che cosa succederà anche a livello organizzativo come abbiamo già ricordato a cominciare dal campionato di calcio se effettivamente si troverà una formula breve per poter chiudere comunque la stagione se invece Versa le partite verranno spalmate nei mesi di maggio e giugno Daniel a questo punto una cosa, almeno su una cosa la Lega Calcio che solitamente è sempre abbastanza combattuta mi sembra che siano tutti d'accordo cioè la ripresa se possibile, è ovvio che dipende da una situazione globale non solo da situazioni parziali la ripresa dovrebbe essere per l'inizio di maggio con scadenza praticamente la fine di giugno restano però fuori due date importanti quelle delle due semifinali di Coppa Italia ricordiamo il ritorno di Juventus-Milan con il punteggio di 1-1 qui a San Siro e il ritorno di Napoli-Inter col Napoli che aveva battuto fuori casa l'Inter potrebbe essere questa forse la soluzione migliore sempre che il fenomeno coronavirus venga prima attenuato e soprattutto debellato sicuramente potrebbe essere questa bisognerà vedere anche cosa deciderà martedì l'UEFA si è parlato, lo sai perfettamente Furio proprio di una Champions League che andrebbe a sostituire Euro 2020 cioè vale a dire far le partite di ritorno tra Juventus e Lione e le altre quella ovviamente del Bayern con il Chelsea e anche quella del Napoli col Barcellona e poi una volta che rimarranno chiamiamo così le magnifiche otto giocare tutte le partite a Istanbul in campo neutro come se si trattasse di un europeo per club a tutti gli effetti la domanda per completare il tuo teorema quando anche questo eventuale e anomalo diciamo così questa eventuale anomala Final 8 di Champions League potrà essere disputata visto che dovendo giocare e chiudere entro il 30 di giugno perché lo ricordiamo dal primo luglio molti scontratti di alcuni giocatori scadranno dove piazzarli e dove piazzare anche questo torneo e come piazzarlo questo sicuramente sarà un problema sì certo, vedremo appunto che cosa succederà più avanti grazie Daniel, grazie grazie a voi ci sentiamo martedì con gli ultimi aggiornamenti e vedremo, commenteremo insieme Daniel anche quelle che saranno le decisioni dell'OEFA che sono fondamentali anche per il nostro calcio visto, ricordiamolo, in Europa ci sono ancora Napoli, Juventus, Atalanta, Roma e Inter grazie Daniel, a presto grazie a voi, buon lavoro ecco Melissa, ci sono altri aggiornamenti, domande? sì, allora un telespettatore ci ha mandato le parole di Balotelli che stanno girando in questo giorno quindi bisognava far tornare la Juve in testa prima di fermare il campionato tu cosa ne pensi? sono un po' estreme queste parole? è una battuta infelice purtroppo Balotelli riesce a far parlare di sé più quando non gioca che quando gioca e voleva essere una battuta scherzosa, ironica anche abbastanza scontata un po' d'avance spettacolo fosse stata veramente spiritosa che però è stata un po' presa sul serio sì, beh, perché c'è di mezzo la Juventus per carità, io non voglio prendere le difese di nessuno tantomeno della Juventus o dei grandi club o di qualsiasi club che non ha bisogno di essere difeso da me però bisogna anche avere un minimo di equilibrio forse sarebbe meglio stare zitti a prescindere in questo momento una telefonata per noi pronto buona domenica anche se si sta in casa ciao Furio ciao Cesare eccoci qua se si sta in casa però si guarda il barbiere bravo ecco Cesare ne approfitto per chiederti cosa ne pensi di questa sosta parliamo di calcio si parla giustamente di coronavirus più 24-23 ore al giorno queste due ore tenendo conto che c'è il coronavirus però parliamo di calcio secondo te questa pausa questa pausa forzata può avere un influsso se non negativo comunque abbastanza importante su quello che potrebbe essere il rendimento della Juventus quando riprenderà il campionato se riprenderà considerato il fatto che sembrava sembra che Sarri abbia un po' trovato la quadra del gioco proprio nell'ultima partita in quello Juventus-Inter dove la Juve ha ribadito la sua superiorità almeno nei confronti dei Nerazzurri ma io penso che uno sportivo ne risenta sì perché se deve fare sempre allenamenti come vedi che fanno palestra a mattina pomeriggio sera allenamenti non come gli amatoriali dico perché uno di Serie D non si allena come uno di Serie A giusto poi sono allenamenti sono allenamenti diversi sono carichi diversi quindi per me partono tutti alla pari uno della Juve uno del Napoli quindi anche se si allena in casa non è come allenarsi al campo sportivo anche se questi hanno palestre però vabbè quindi tu pensi in un livellamento comunque quando si riprenderà partono tutti alla pari io penso che ci saranno anche infortuni uno non è che anche quando incominciano faranno sì allenamenti però se vogliono fare prima del come dicono prima del 30 a finire gli allenamenti tra l'altro fra l'altro ad esempio il Milan ha posticipato ufficialmente la ripresa non domani ma a lunedì successivo il 23 perché c'è il rischio poi allenandoti che se ci dovesse essere un infortunio o comunque magari un problema che merita una 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 visita soprattutto con con l'ausilio di macchinari in ospedale e giustamente negli ospedali non c'è posto certo per queste cose e anche perché gli ospedali in questo momento sono soprattutto quelli della Lombardia sotto pressione quindi si è pensato e pensato che sia meglio comunque aspettare e aspettare almeno che l'emergenza la grande emergenza si atteni per poi dopo decidere cosa fare poi volevo chiedere una cosa dopo sia te o dopo non so se c'è ancora qualche opinionista perché è appena acceso quindi ho visto che c'era no siamo in collegamento con Tramacere e poi ci saranno altri collegamenti via Skype sapete più di me parlando sempre di calcio che l'avessi certo sì sì quelli che erano in scadenza giusto quelli del 30 che fino al 30 gente giù esatto ma come quello della Juve che adesso gioca a Parma così se si va avanti a giocare dove gioca è una stupidata però no no non è è un problema è un problema da un punto di vista da un punto di vista squisitamente legale regolamentare evidentemente tu sei senza senza contratto bisogna vedere se magari anche l'UEFA o la Federicalcio dipende ovviamente dalla competizione troveranno un modo per tutelare questi questi giocatori perché sono tanti sono sì sono tanti e sono anche importanti basti pensare appunto che il Milan in questo momento io ti dico quelli del Milan che sono Ibrahimovic e Bonaventura ma altre società ne hanno di più poi ci sono i prestiti è una situazione delicata però in questo momento si pensa più a risolvere il problema ovviamente sanitario e poi quando ci sarà una data una parvenza di data si interverrà in maniera più decisa a questo punto grazie comunque vabbè meno male che ci siete anche voi grazie grazie Cesare buon pomeriggio grazie ecco a questo punto abbiamo proprio Tramacere visto che lo annunciavi durante la telefonata eccolo qua Emanuele buon pomeriggio ben arrivato ciao buon pomeriggio a tutti ciao Emanuele abbiamo fatto un'introduzione per parlare comunque di un momento dove non si gioca ma l'agenda di questo del calcio e dello sport in genere prevede la prossima settimana esattamente dopo domani una rione importante dell'Oefa che dovrà decidere il destino del calcio poi si riunirà anche il comitato internazionale olimpico per decidere addirittura non solo il destino degli altri sport ma addirittura il destino delle olimpiadi che sono previste in Giappone i giapponesi sono determinati ad andare avanti sempre e comunque mentre il CIO ha deciso di tenere conto del parere di quelli che sono invece i vertici delle istituzioni sanitarie dell'osservatorio della salute mondiale e quindi evidentemente ci sarà un grande dibattito restiamo all'Oefa e soprattutto come si potrà dipanare questa matassa a livello di campionato si capisce che potrebbe essere la ripresa a maggio e la fine a giugno prima Daniel Pisani ci parlava di questa Final 8 di Champions League con un torneo da disputare in un campo abbastanza neutro come può essere Istanbul quale pensi sarà in questo momento la linea politico-sportiva dell'Oefa? Allora innanzitutto ci terrei a dare una risposta anche all'ascoltatore di prima che ha chiesto come si può andare avanti oltre il 30 giugno per quei contratti che sono in scadenza da quello che arriva dalla FIGC dalle parole del presidente Gravina non c'è questa opzione in questo momento perlomeno la FIGC ha fissato come deadline per i campionati il 30 giugno non ha intenzione in questo momento di pensare di poter andare oltre quella data e quindi oltre la scadenza dei contratti nel caso in cui fosse necessario allora si dovrebbe attuare una serie di regole chiedendo permessi al governo alla società quindi ad oggi non è una strada che la FIGC vuole percorrere e ma i giocatori impegnati in Champions cioè appunto per il campionato probabilmente il campionato se inizia se ricomincia non andrà oltre giugno ma questa Final 8 evidentemente è destinata a essere disputata a luglio o sbaglio no in realtà anche per quello se ne parlerà ovviamente nella riunione che ci sarà martedì a Nyon però innanzitutto dovrebbe essere una Final 4 e non una Final 8 perché ci sono state già rimostranze da parte di tanti club che sono in questo momento interessate quindi probabilmente si svolgeranno i quarti nel momento in cui si riprenderà con l'attività calcistica finita all'emergenza e poi si andrà alle semifinali secche più la finale tutta in Turchia perlomeno questa è l'ipotesi che stanno spingendo con maggior forza gli massimi organismi della UEFA che proporranno martedì quindi una semifinale finale tutti disputati nel giro di 3-4 giorni probabilmente a Istanbul dicevi bene perché Istanbul è la sede della finale probabilmente verrà allargato semplicemente il torneo ai giorni precedenti allo stadio Ataturk si dovrebbe comunque arrivare anche per questo caso alla deadline del 30 giugno perché il problema dei contratti non è solo italiano ma è europeo perché quasi tutti i contratti nelle massime competizioni internazionali hanno scadenza il 30 giugno comunque sia sono magari anche su più anni però sempre con deadline il 30 giugno casi di scadenza al 31 di dicembre ci sono ma sono per i campionati sudamericani per lo più quindi si va verso comunque una chiusura dei campionati entro il 30 giugno come si concluderanno questi campionati dovrà essere stabilito nei prossimi giorni il fatto che il presidente Gravina dica che la deadline è il 30 giugno non esclude la possibilità che si riprenda a giocare poi a un certo punto si interrompa il campionato e si va davanti con il discorso playoff e playout anzi lui lo ha rilanciato nelle interviste concesse nella mattinata di oggi e nella serata di ieri quindi di fatto la sensazione che ho io è che si andrà avanti fino a fine maggio in giugno con i campionati poi si congelerà ad un certo punto la classifica e da lì in poi si andrà avanti con il playoff ovviamente tutto sperando che questa emergenza passi il più in fretta possibile per quanto riguarda invece l'inizio della stagione successiva resta il primo luglio evidentemente come data legale ma comunque bisognerà fare anche degli accorgimenti per quanto riguarda ad esempio l'Europa Liga sono previsti addirittura tre turdi preliminari nel caso in cui una squadra italiana finisca settima a seconda di chi settima anche perché la Coppa Italia non dovrebbe essere assegnata giusto Emanuele la Coppa Italia dovrebbe poi vedere il suo decorso già a stagione iniziata mentre l'UEFA ha bisogno comunque di un elenco di quattro squadre per la Champions League e di tre squadre per l'Europa League Sì sostanzialmente c'è la volontà da parte della FGC in questo momento di fare una sorta di Final Four anche per quello che riguarda la Coppa Italia ma all'inizio della prossima stagione quindi il posto che verrebbe garantito dalla vincitrice della Coppa Italia come piazzamento Europa League dovrebbe essere dirottato semplicemente sul campionato è normale bisogna rivedere tutti i calendari non solo quello che riguarda l'Europeo tra l'altro noi stiamo parlando di possibilità di come si può concludere questo campionato ma tutto passa dalla decisione che ancora deve arrivare ufficiale da parte della UEFA di rimandare l'Europeo perché l'Europeo è attualmente ancora previsto come data di partenza per il 12 di giugno e probabilmente la UEFA si pronuncerà da questo punto di vista e rinvera l'Europeo adesso vedremo se sarà giocato in inverno oppure se verrà rimandato nel 2021 ci sono tante situazioni da far quadrare anche da questo punto di vista e soprattutto questioni economiche che non sono mai secondarie quando si parla della UEFA abbiamo visto quanto ci hanno messo di fatto a decidere di sospendere Europa League e Champions League quindi ci sarà tanto da discutere bisogna anche considerare e va tenuto in considerazione il fatto che comunque ai calciatori dovranno essere garantite le tre settimane di ferie quindi tutto verosimilmente slitterà probabilmente non si giocherà a fine agosto inizio settembre probabilmente si inizierà a settembre inoltrato se non addirittura ai primi di ottobre tutti i calendari dovranno essere rivisti tra l'altro una rivisitazione dei calendari probabilmente andava già fatta perché in vista dei mondiali di Qatar 2022 comunque qualcosa bisognava bisognava fare cambiare probabilmente sarà questa l'occasione per iniziare a modificare qualcosa grazie Emanuele grazie torniamo spesso in contatto con te e soprattutto comunque dovremmo parlare di come potrebbe anche cambiare il volto di molte squadre perché qualcuno sta già facendo sta già tirando le prime somme parliamo ad esempio del Milan ci sono tanti contratti in scadenza ci sono anche i contratti in scadenza nel 2021 che da un punto di vista formale non rappresentano nulla di immediato ma che evidentemente in quella che è l'ottica del calcio anche di questa bulimia sempre di novità di situazioni che vanno comunque anticipate anche questi contratti cominciano a entrare nell'ottica e nella lente di ingrandimento dei grandi club e soprattutto dei procuratori ecco Melissa nel frattempo abbiamo nuove indicazioni dai nostri telespettatori infatti aspettando la riunione di martedì adesso si parla di questo piano salva Serie A quindi si partirebbe il 2 maggio a giocare quindi due mesi senza fermarsi ma Andrea ci chiede quindi sarebbe a costo di giocare addirittura a tre match alla settimana non è forse troppo dunque bisogna anche qui avere pazienza e seguire quelle che sono le direttive di una situazione dove ad esempio l'Inter deve recuperare ancora la partita contro la Sampdoria e fra l'altro dovrebbe affrontare l'ottavo di finale attenzione di Europa League contro il Getafe la partita d'andata era prevista a San Siro la scorsa settimana e non si è disputata sono 12 le giornate di campionato da recuperare potrebbero essere spalmate su nove domeniche con tre turni infrasettimanali è chiaro che siamo di fronte a un tour de force di un certo peso ma è anche chiaro che dovranno essere bravi gli allenatori i loro staff e ovviamente dovranno essere supportati dai rispettivi club per sfruttare al meglio le ampie rose solitamente si arriva si oscilla dai 23 ai 24 giocatori ai 26 27 per sfruttare al meglio il loro parco giocatori perché sicuramente sarà una situazione di emergenza per fortuna solo calcistica dobbiamo attendere per capire se effettivamente si partirà in maggio diciamo che dobbiamo aspettare prima di tutto di capire che cosa succederà con il col virus col coronavirus nel momento in cui si dovesse intravedere l'uscita da questo tunnel e mi sembra la cosa più importante poi si potrà pianificare la ripresa dell'attività non agonistica ma ovviamente di training e di allenamento e poi vedremo quando si potrà scendere in campo per disputare non solo il campionato di Serie A ma anche tutti gli altri campionati per quanto riguarda l'Italia dove ci sono interessi più o meno importanti ma ricordiamo le promozioni dalla B alla A le retrocessioni dalla B alla C e soprattutto le promozioni dalla C alla B tutto questo però bisogna aspettare che sia più chiara la situazione sanitaria esatto invece Stefano da Bergamo dice addirittura non bisogna più giocare e sospendere tutto se ne riparla settembre però in effetti l'idea mi sembra che sia proprio quella di continuare ma sai Stefano l'unico Stefano l'unico ostacolo in questo momento da un punto di vista proprio tecnico è rappresentato dagli europei perché la Dacia è una data di inizio il 12 giugno ci sono dei grossi interessi economici e lo spostamento solo lo spostamento cioè di un anno il trasloco dal 12 giugno 2020 alla stessa data del 2021 porterebbe comunque danni per 300 milioni di euro tutto il circo il carrozzone vale 2 miliardi e mezzo di euro quindi è chiaro che non puoi che non puoi sospendere non puoi sospendere i campionati e tantomeno puoi sospendere gli europei quindi questo trasloco comunque poi andrebbe a impattare in due situazioni in due altre competizioni previste nel 2021 il mondiale per club e la confederation cap ma ovviamente a qualcosa bisogna rinunciare diceva bene fra l'altro Emanuele Tramacere nel precedente collegamento è che bisogna fare i conti anche nell'inverno del 2022 con i mondiali che saranno organizzati in Qatar perché in gennaio è facile ovviamente intuirlo perché certo non puoi giocare in estate a quelle latitudini con temperature che oscillano fra i 40 e i 50 gradi quindi evidentemente è una buona si tratta di una buona occasione per rivedere tutto da subito e anche per quello che riguarda il futuro del calcio che va riorganizzato e forse va anche rimodellato per quanto riguarda la frequenza e l'assillo di tante partite e di tante competizioni che forse in questo momento incominciano a diventare un po' troppe perfetto grazie Furio noi ci vediamo dopo la pubblicità quindi restate in linea e scriveteci a tra poco ci siamo durante la pubblicità Furio è arrivato un bel messaggio devo dire ci scrivono anche non seguendo tanto il calcio mi fate tanta compagnia in questi giorni un po' tristi grazie esatto ringraziamo ringraziamo ovviamente ma è tutta espansione tv ricordiamo fra l'altro che alle ore 19.30 ci sarà un aggiornamento con il TG intanto c'è una telefonata Melissa pronto pronto buonasera sono Marco D'Alecco ciao Marco buonasera Fulvio e Melissa che non so se è possibile ma è ancora più bella del solito grazie i colori sono quelli giusti comunque grazie per essere in linea grazie per essere in onda per fare questo servizio grazie a te Marco io volevo allora spero che si riprenda tutto ci sono tre mesi e mezzo al 30 di giugno e quindi spero che si riesca a fare tutto quello che si pensa di fare o che si crede di fare ammesso e non concesso perché sentendo in giro anche non so i notiziari allora il premier inglese e Macron dicono che potrebbe esserci il 50 o il 60% della popolazione interessata a questa pandemia qualcuno non esclude addirittura una recidiva ammesso e non concesso e non me lo auguro che questa stagione non possa essere fatta che cosa potrebbe restare di questa stagione del calcio che cosa che cosa potrebbe beh Marco sai comunque comunque ci saranno dei verdetti dei verdetti che sono soprattutto sollecitati dall'UEFA perché come tu ti ricordi nel 2006 stiamo parlando di calciopoli tutt'altra cosa ma poi alla fine l'UEFA vuole sapere i nomi delle quattro squadre non vuole sapere la classifica vuole sapere i nomi delle quattro squadre che andranno in Champions League e i nomi delle tre squadre che parteciperanno all'Europa League ma non solo di quelle italiane però sì sì però io ti sto parlando io circoscrivo il discorso all'Italia anche perché comunque non è detto che poi parta la Serie A e magari non partano gli altri parliamo restiamo a casa nostra sennò diventa veramente un discorso molto complicato quindi in caso di sospensione in caso di annullamento prima di questa soluzione potrebbero esserci i playoff anche perché in caso diciamo di annullamento perché non è più possibile andare avanti dovresti anche fare i conti con le retrocesse che non avrebbero l'obbligo e non avrebbero soprattutto il diritto di essere retrocesse le ultime tre ma poi ci sarebbe anche l'obbligo di imbarcare almeno le prime due della Serie B in questo momento se non sbaglio dovrebbero essere Benevento e Frosinone che comunque in questo momento sono in testa alla classifica però qui siamo veramente al limite di una soluzione che forse insomma sarebbe non certo quella più importante più grave perché vorrebbe dire che avremmo dei problemi molto più seri delle classifiche di Serie A Serie B e poi a scalare insomma Marco Niente non parlo di calcio ovviamente non è il momento vi saluto e vi ringrazio ancora di essere in onda grazie grazie Marco grazie buon pomeriggio ci sentiremo presto vi ricordo che il barbiere non lascia ci mancherebbe ma raddoppia abbiamo già raddoppiato da tempo con la trasmissione della domenica dalle ore 17 alle ore 19 e con quella consueta tradizionale del martedì sera dalle 21 e 20 alle 22 e 40 Melissa ci sono altre sollecitazioni stavo vedendo invece che il Napoli sta già pensando a nuovi giocatori come ad esempio Jovic dal Real Madrid Sì ne parleremo ne parleremo a breve con Emanuele Tramacere perché comunque è vero il calcio giocato si ferma si sono fermati anche gli allenamenti purtroppo ovviamente per cause di forza maggiore ma è sempre tempo di mercato si parla di mercato si parla di nuovi acquisti soprattutto il Napoli di Gattuso ha trovato grande vigore con l'arrivo del nuovo allenatore e anche la società anche lo stesso De Laurentiis sembra aver trovato grande forza grande entusiasmo per costruire se possibile una squadra ancora più competitiva la parentesi la parentesi di Ancelotti è stata evidentemente negativa ma sembra che con Gattuso si sia aperta una nuova strada una nuova pista c'è stato ad esempio ormai manca solo la firma il rinnovo di Mertens lo stesso Gattuso che sembrava comunque legato solo ed esclusivamente ai risultati per la sua riconferma anche per la stragione 2020-2021 in realtà è già praticamente sicuro di allenare ancora il Napoli intanto vedo in collegamento fra poco Emanuele Tramacere perché come vi avevo detto parleremo di mercato parleremo di quello che potrebbe essere il volto di molte squadre ecco Emanuele ben ritrovato si parlava un nostro telespettatore ha costato il nome di Jovic al Napoli certo che il Napoli prima dovrebbe fare un po' di chiarezza soprattutto nel reparto offensivo dove ci sono tanti attaccanti Milik sta preparando le valigie però ad esempio c'è un peso un peso dal punto di vista economico notevole come Lozano che comunque è un giocatore addirittura il giocatore più pagato della storia del Napoli 42 milioni di euro che non sarà facile né inserire perché Gattuso in questo momento non lo tiene in considerazione né tantomeno ricollocare su un mercato dove difficilmente Napoli potrebbe recuperare da subito i 42 milioni spesi forse nemmeno gran parte di questa cifra ma sì sicuramente nel reparto d'attacco del Napoli cambierà tanto perché Napoli sta programmando una rivoluzione in attacco non dovrebbe riguardare Dries Mertens perché il rinnovo del contratto ormai è cosa fatta potrebbe riguardare sia Lozano sia Milik sia Cajon che sono i tre giocatori che sono in uscita uno in esperienza di contratto Cajon appunto per gli altri due si sta valutando quello che il mercato offrirà su Milik tra l'altro lui è il contratto scadenza 2021 una trattativa per il rinnovo c'è stata tra il Napoli e l'attaccante ma la richiesta di inserire una clausola registrazione molto bassa non voleva superiore ai 50 milioni di euro Milik appunto da inserire nel rinnovo del suo contratto ha bloccato tutto e per questo il Napoli lo ha messo sul mercato e sta cercando un attaccante centrale più o meno con le sue caratteristiche da inserire in rosa io non sto più neanche contando Fernando Llorente perché ovviamente Gattuso non l'ha neanche mai preso in considerazione e verosimilmente anche lui andrà via a fine anno su Jovic la notizia è confermata è giunto lì aveva provato a prenderlo già la scorsa estate prima che andasse al Real Madrid ha mandato spesso e volentieri sui scout quando era all'Eintracht Francoforte a visionarlo quindi un giocatore che piace molto al Napoli al Real Madrid non sta trovando spazio quindi è un giocatore che può partire sullo Zano bisogna aprire un capitolo a parte perché è vero che è stato il giocatore più pagato è anche vero che comunque sia De Laurenti non vuole perderci dalla sua eventuale cessione quindi ad oggi è un giocatore tra virgolette incedibile si può aprire per lui l'ipotesi magari di un presto con diritto di riscatto barra obbligo di riscatto in modo tale da liberare almeno per quello che riguarda il Napoli dal suo ricco stipendio e da lì si può partire per l'inserimento di un giocatore con caratteristiche magari diverse non dimentichiamoci che Lozano nel Napoli ha sempre giocato di fatto da esterno alto di destra e in quel ruolo il Napoli ha comprato Matteo Politano dall'Inter pagandola anche in quel caso una cifra importante quindi è plausibile che probabilmente per lui se non dovesse arrivare l'offerta da 40 milioni di euro che di fatto farebbe fare pari e patta al Napoli dal punto di vista del bilancio probabilmente o si aprirà le porte di un presto oppure verrà trattenuto in rosa e con il compito per chi sarà sulla panchina molto probabilmente gattuso con l'obbligo appunto di rivalutarlo grazie Emanuele c'è una telefonata Melissa pronto ciao Melissa sono Attilio Attilio grande come stai ciao tutto bene bene una parola grossa diciamo che si va avanti allora Attilio cosa ne dici come passi le tue domeniche pensando alla Juve ovviamente le passo a casa a vederti te grazie te Melissa guarda grazie meglio Melissa comunque in assoluto no no anche te sei simpatico anche te grazie Attilio Attilio ma insomma poi non ci siamo più sentiti dopo Juventus Inter sei rimasto soddisfatto pensi che Sarri abbia finalmente trovato un po' il bandolo della matassa e soprattutto perché ha battuto per due volte l'Inter e quei sei punti pesano come macigni nella lotta per lo scudetto posso posso farti una domanda un po' provocatoria prego ha preso la quarantena ha preso il coronavirus e Rugani li abbiamo battuti e poi li abbiamo messi in quarantena li abbiamo messi guarda è una cosa sei perfido sei perfido sì sì ho capito però guarda è forse meglio che passi un po' tutto quella menata qua sì no quello sicuramente salutiamo Rugani salutiamo tutti quelli anche per la gente che stanno male anche per la gente che stanno male gli operatori i dottori i medici i infermieri quelli sono i veri eroi che si sta bloccando tutta l'Italia perché qua è una cosa che non si scherza no no qui non si scherza la tua era una battuta da una battuta diciamo goliardica da Juventino agli interisti però non c'è niente da scherzare è meglio che si ferma tutto che vanno tutto a posto per questo fondamentalmente sì però intanto vediamo vediamo se può partire se può partire se può ripartire il campionato sì e forse è meglio che si ferma anche lui intanto intanto non muove nessuno anche se non si gioca a pallone sì è vero purtroppo le morti ci sono ci sono altrove e forse è meglio la salute che il pallone sicuramente è meglio la salute senza la salute non c'è nulla ciao Tilio fatti risentire assolutamente Melissa Melissa stammi bene meglio di lei guarda non sta nessuno te lo posso garantire Melissa non fammi qualche scherzo hai capito perché sei lei è la nostra regina infatti ha la corona solo la corona però la vedi ho capito ciao ciao l'Atalanta è molto sul pezzo perché comunque ha conquistato un traguardo eccezionale meritatissimo rifilando ben otto gol al Valencia negli ottavi di finale di Champions League gli atalantini ci credono e ci fanno molto bene tra l'altro è ancora perfettamente allineata anche in campionato con gli obiettivi stagionali l'obiettivo di quarto posto che le darebbe comunque la possibilità di partecipare ancora alla Champions League della prossima stagione l'Atalanta è pronta e secondo me Gasperini ha mantenuto alta la concentrazione e vedremo cosa succederà mercoledì pronto una telefonata pronto pronto buonasera 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 chi parla e da dove? ciao chiaro era meglio se non succedeva perché purtroppo è una guerra quello che certo purtroppo bisogna avere grande rispetto noi cerchiamo di passare due ore parlando di calcio ma non si può far finta di quello che sta succedendo altrove dappertutto speriamo che ecco quello che sto vedendo però vedo molta voglia di solidarietà insomma è vero che qualcosina però sta producendo qualcosa di a livello umano proprio di di umanità qualcosa di buono qualcosa di buono veramente di molto di molto bello sto vedendo in giro delle cose bellissime commuventi veramente commuventi che veramente fa piacere perché ultimamente diciamo umanamente parlando non eravamo molto belli a vedersi e invece devo dire che adesso c'è era come quando mi ricordo nell'85 c'è la famosa nevicata a Milano che la gente scendeva dai pulmi dal tram e spingeva uno aiutava l'altro la macchina e non andava sì la situazione è più grave però ha ricompattato tutta umanamente vedo anche i ragazzi con la voglia di darsi da fare proprio di aiutare ecco ha ricompattato una nazione speriamo che ricompatti l'Europa io sono molto diffidente su quello che è questa unità se non da un punto di vista commerciale anche per l'euro mi sembra che quelli che dovrebbero essere i nostri alleati siano i nostri denigratori Pino è dovuto andare a San Matteo di Pavia perché purtroppo è mancato lo zio e quindi dovuto andare lì e mi ha detto stamattina mi fa zio quello che ho visto ieri a San Matteo quando l'ho già 45 è una situazione grave la situazione è molto grave zio credimi se non vedi non ci credi i morti che ho visto proprio i morti perché dovuto andare è una guerra mi fa Pino zio siamo in guerra veramente effettivamente tutti i reparti convertiti per il covid non c'è più il loro reparto di urologia di oncologia tutto l'ospedale per il covid è una guerra di quelle cose che se uno non va lì e non vede non ci crede non ci crede certo Pino speriamo l'importante al di là del caccio è veramente che ne usciamo tutti con i minor danni possibili a presto Pino grazie per la telefonata grazie per questa testimonianza che ancora una volta sottolinea come è giusto che sia la difficoltà di questo momento sicuramente infatti riprenderemo questo discorso tra poco dopo la pubblicità grazie ci siamo siamo giornati con voi insieme a cartacci ciao ciao buonasera Carlo adesso fra poco lo avremo sicuramente ecco eccolo qui ciao Carlo ben ritrovato ben ritrovato grazie anche tu in video dopo essere stato nostro ospite martedì scorso per commentare una situazione che purtroppo non sta migliorando per quanto riguarda la situazione ovviamente sanitaria mentre ne parlavamo con Tramacere con Pisani martedì potrebbe essere un giorno molto importante almeno per quanto riguarda il futuro del del campionato perché se l'UEFA dovesse dare il suo assenso a spostare a posticipare di un anno gli europei allora evidentemente ci sarebbe molto più spazio molta più tranquillità per poter completare il campionato come si sta preparando l'Inter certo un Inter in quarantena quindi un Inter che evidentemente sta facendo i compiti a casa se mi passi la metafora un Inter che comunque ha ancora molto da dire e da dare perché è impegnata su tre fronti campionato Europa League e Coppa Italia sì Inter in quarantena per cui chiaramente i giocatori sono nelle proprie case nelle proprie residenze dove sui social abbiamo potuto vedere nei giorni scorsi come si allenino sul Ciclette sul Tapirulan secondo un programma dato fornito dall'allenatore Conte stesso e comunque dallo staff di preparatori di cui dispone l'Inter l'unico diciamo tra parentesi fortunato in questo momento di sfortuna per tutta l'Europa soprattutto è Eriksen che sta passando sta trascorrendo questo periodo di quarantena alla Pinettina quindi ha a disposizione addirittura tutto il centro sportivo per sé per prepararsi la cosa abbastanza curiosa è che in realtà lui è la Pinettina non tanto per scelta ma per necessità perché l'albergo di Milano che lo ospitava purtroppo ha dovuto chiudere e quindi insomma è giusta la decisione di andare alla Pinettina dove ci può mancare tutto ma non certo l'allenamento e non è da poco ecco Carlo cosa si dice in casa Inter cioè il momento ovviamente è di grande riflessione di grande attenzione proprio dal punto di vista sanitario ma l'Inter fra l'altro al di là di quella che potrebbe essere la regolarità della fine di campionato deve recuperare questa benedetta partita con la Sampdoria ammesso e non concesso che si riparta da maggio c'è la possibilità quale potrebbe essere una data per far ripartire per far ripartire l'Inter con la Sampdoria evidentemente per recuperare questa partita comunque sono tre punti fondamentali che pesano parecchio nella classifica di entrambe le squadre fra l'altro e non solo delle due squadre anche di tutte le squadre ad esempio che occupano il fondo della classifica perché il Lecce stesso è diretto interessato il Genoa e altre squadre di bassa classifica come si farà innanzitutto è impossibile al momento visto la situazione sanitaria stabilire a priori che si possa iniziare ai primi di maggio iniziamo a vedere appunto il primo step dato è il 3 di aprile per riuscire a capire sicuramente non si potrà giocare in quel periodo e dopodiché vivremo la giornata ancora come abbiamo fatto all'inizio di questa di questa emergenza certamente contando come dicevate prima durante la trasmissione dall'inizio di maggio alla fine di giugno giocare tutte le 12 giornate 13 per l'Inter più auguriamocelo per l'Inter almeno altre competizioni altre gare per arrivare alla finale di Europa League sarà un cammino veramente duro però nel mondo ci sono sport che parlo dell'NBA dove giocano addirittura 4 partite a settimana con voli addirittura interstatali parlando degli Stati Uniti per cui bisogna abituarsi probabilmente a giocare addirittura più magari di 3 partite ogni 7-10 giorni magari 4 partite ogni 10 giorni Carlo nella sovraimpressione c'è la nostra domanda Inter ha la ripresa ci sarà la rimonta perché l'Inter deve rimontare in campionato deve rimontare in Coppa Italia perché lo 0-1 di San Siro in questo momento favorisce Napoli per la partita di ritorno perché si disputerà a San Paolo e poi anche in Europa League insomma il Getafe non si presenta o non si presentava come un avversario certo potabile ci avevi presentato questa partita poi non si è disputata giovedì scorso a San Siro ci hai presentato il Getafe comunque come la quarta forza della Liga Spagnola e non è poco come un avversario che sicuramente non era certo considerato gli ottavi di finale l'avversario più semplice è un Inter secondo te secondo gli interisti secondo anche la società in grado comunque di rimontare di dare battaglia fino all'ultimo all'ultimo minuto di una stagione che sicuramente è maledetta da un punto di vista generale globale per quello che sta succedendo ma potrebbe essere forse anche una stagione dove potrebbe venire fuori ancora una volta il carattere di Conte e la forza della società io vedo veramente dura la possibilità di recuperare il campionato i punti di differenza sono tanti anche la vittoria ricordiamo che sono nella migliore delle ipotesi cioè se l'Inter dovesse battere la Sampdoria nel recupero i punti di distacco dalla Juve non sono sei ma sette perché ovviamente la Juve avrebbe dalla sua il confronto diretto ecco è possibile che questi sei punti questi sei punti sono veramente tanti non solo da un punto di vista numerico ma rappresentano sicuramente la consagrazione di Sarri e forse diciamo un ridimensionamento di quelle che erano le aspettative su Conte non so se sei d'accordo due partite non sono tutto ma trattandosi di Juventus e Inter secondo me rappresentano tanto nel corso della stagione ho visto due cose innanzitutto una superiorità in dubbia nei due scontri diretti della Juventus nei confronti dell'Inter questo è stato sotto gli occhi di tutti la seconda cosa comunque un miglioramento del gioco un miglioramento in tutti i reparti del tecnico di tutte le parti da parte dell'Inter questo raggiungendo una conclusione alle tue domande secondo me non c'è strada per l'Inter per arrivare a vincere quello scudetto quest'anno almeno invece trovo comunque possibile che possa dire la sua sia in Europa League e qualora riuscissimo a portarla a termine anche in Coppa Italia perché no perché comunque l'1-0 subito a San Siro è la peggior sconfitta come dice il buon Mourinho che possa capitare a una squadra 1-0 persa in casa l'Europa League è vero è vero il Getafe è una squadra forte però quando tu arrivi agli ottavi di finale e vuoi vincere una Coppa devi iniziare a batterli tutti grazie Carlo grazie grazie a voi ci rivedremo e ovviamente ci risentiremo martedì prossimo martedì giornata fondamentale perché avremo tanto da dirvi e da darvi perché comunque ci sarà la decisione dell'UEFA che riguarderà gli europei riguarderà Champions Europa League e di conseguenza l'effetto domino sarà poi su quello che potrà essere la conclusione il compimento della Serie A e poi di tutti gli altri campionati a pioggia nel frattempo sul tuo tablet cosa appare? Luca da Monza ci scrive il bello del calcio molte società e molti giocatori si stanno rivelando proattivi e molto solidali infatti abbiamo visto dalla Juve all'Inter ma non solo anche Ibrahimović Totti Ronaldo sono stati donati quasi 2 milioni si sono ancora pochi è un bel gesto riprendendo anche il discorso di Pino che ci ha chiamato poco fa si sono pochi rispetto alle potenzialità del calcio una curiosità Ibrahimović che è testimonial di un integratore fra le tante cose ha trovato un accordo con questa azienda affinché ad ogni confezione dell'integratore venduta sia abbinata una mascherina una mascherina che non è una mascherina diciamo normale se non ricordo male la sigla è FF2P sono delle mascherine particolari molto molto professionali fra parentesi che possono essere riciclate perché sono fatte in maniera tale dove ci sono dei filtri che possono essere sostituiti sono molto professionali perché vengono sono proprio quelle più adatte per quanto riguarda i sanitari i medici gli infermieri gli addetti ai lavori ad affrontare i reparti dove appunto ci sono i contagiati dal coronavirus il calcio può e deve fare molto di più e speriamo che anche il calcio possa imparare molte cose io sono d'accordo che per carità è un mondo a parte però vive nel mondo reale probabilmente il fatto stesso che anche i calciatori ahimè per loro per tutti siano vulnerabili forse magari li riporterà anche in un contesto di vita un pochino meno esasperato e un pochino più realista e concreto sotto tutti i punti di vista anche Ronaldo ha fatto un bel gesto visto che ha messo a disposizione i suoi hotel in Portogallo per curare appunto le persone affette dal virus e gli infermieri e i dottori pagati direttamente da lui sì fra l'altro c'è da pensare a proposito degli hotel che spesso e volentieri ci sono anche i parenti delle persone infette a di là della quarantena puoi anche seguire proprio i propri cari in quello che parte come un calvario e speriamo che il maggior numero possibile dei casi poi diventi un trionfo della vita comunque avremo modo di parlarne ancora ci manca ancora un'ora la prima è stata molto intensa vi ringrazio ci sentiamo fra poco Melissa esatto pubblicità eccoci inizierei subito con un messaggio che ci è appena arrivato Demiral l'emergenza gioca a suo favore rientra per il finale di stagione sì probabilmente sì bisogna vedere quando e come sarà il finale di stagione adesso fare previsioni è difficile perché tutto è fermo certo Demiral e anche lo stesso Zaniolo insomma gli infortunati più gravi più seri di inizio stagione potrebbero essere avvantaggiati si fa per dire in questa situazione potrebbero essere avvantaggiati proprio perché ci potrebbe essere una dilatazione del campionato nel frattempo c'è una telefonata una chiamata sì pronto pronto buonasera buonasera chi parla e da dove sono Ivano dentro il capo Tribasei ah buonasera buonasera Ivano prego ciao ciao Ivano io ho dei dubbi il campionato quando si gioca perché sì Ivano perché queste questa malattia non si sa quando finisce quando si può ricominciare dunque mi sa che sarà annullato tutto o se o non si assegna un campionato per pace si assegna il campionato 2019 2021 si mettono il cuore in pace però perché è una malattia che magari ci possono essere anche delle ricadute certo in questi giorni anche ma sai Ivano ti ripeto ovviamente non parliamo certo con leggerezza in questo momento cerchiamo di di abbinare la realtà dei fatti a quelle che potrebbero essere delle previsioni e in questo momento delle supposizioni diciamo che da un punto di vista regolamentare da un punto di vista tecnico si sta cercando a tutti i livelli a maggior ragione a livello di Federcalcio e di Lega Calcio di trovare una soluzione nella migliore delle ipotesi cioè che questo fenomeno si atteni e per saperlo dovremmo aspettare ancora qualche giorno a meno per quanto riguarda la Lombardia che questo fenomeno si atteni per poi dopo riprogrammare tutto fra la prosecuzione diciamo normale si fa per dire perché comunque si ripartirebbe da maggio per passare poi all'annullamento mi sembra che stiano prendendo stia prendendo corpo l'ipotesi dei play-off che in questo finora erano stati sono praticati a livello di serie inferiori come la serie B e la serie C dei play-off e dei play-out per decidere comunque almeno a chi assegnare lo scudetto e soprattutto le tre retrocesse per fare poi spazio alle tre promosse dalla serie B è difficile tenendo conto parlare in questo momento di una situazione che adesso si parla addirittura di possibili ricadute e recidive però si tenta di dare comunque una connotazione precisa una storia abbastanza delineata ma tutto questo è sulla carta poi è chiaro che a decidere tutto sarà il destino e soprattutto quello che ancora il coronavirus purtroppo non ci ha detto e speriamo che non ci dica cioè che rappresenti un ostacolo ancora più difficile da debellare rispetto a quello che non è già Ivano grazie grazie Ivano grazie a tutti voi grazie 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 Ivano grazie mille grazie per il tuo intervento ripetiamo stiamo parlando di calcio non calcio giocato stiamo parlando di quello che potrebbe succedere senza ovviamente dimenticare la realtà dei fatti infatti sono assolutamente giuste e bene accette le telefonate di chi tifosi appassionati detti ai lavori vogliono testimoniare quello che è la loro sensazione e anche perché sì il loro sconforto per quello in questo momento fa paura non solo per quello che è ma per quello che potrebbe essere cioè il coronavirus prego se ci sono altre situazioni sembra che la Juventus vabbè dopo la chiamata va bene perfetto pronto buonasera sono Benny sono Benny buonasera volevo volevo fare una considerazione insieme a Furio certo volevo sapere ma la Lega Calcio sì fa proprio così fatica in un momento così drammatico a fermare questo campionato definitivamente come quando fu nella guerra quella c'è possibile che mettiamo davanti i diritti tv le pay tv quelle robe lì su una cosa che non si sa come va a finire io ho paura che si va si pensa di più a queste robe qui che veramente a bloccare una cosa che possiamo riprendere anche l'anno prossimo si perdono dei soldi pazienza ma preferiamo prendere dei soldi o avere della gente che sta bene e che riesce a ripartire alla grande come abbiamo fatto grazie buonasera grazie Benny sì considerazione legittima considerazione giusta è vero per fermare per fermarsi ci si è fermati Benny si è fermato tutto forse in ritardo forse con molte contraddizioni sicuramente con tante polemiche inutili sicuramente con il ritardo si è visto nel balletto dei recuperi dei rinvii degli scioperi presunti o non presunti si è perso tempo si è perso tempo e soprattutto non si è fatto una bella figura nei confronti di un'opinione pubblica sotto shock basta vedere le nostre città a tutte le latitudini in che condizioni sono deserte e la gente tutti indistintamente qui non c'è distinzione né di tifo né di ceto sociale né di istruzione tutti siamo molto molto preoccupati si sta cercando si sta cercando parlando appunto di calcio di trovare quantomeno se non la soluzione la via da intraprendere certo è che la situazione sanitaria quello che sarà il destino di ognuno di noi senza nessun tipo di distinzione deve e avrà la precedenza su qualsiasi partita su qualsiasi coppa su qualsiasi scudetto è chiaro che vuole essere un messaggio di buono auspicio per quello che può darlo il barbiere per questa trasmissione però almeno si cerca di distogliere l'attenzione non tanto l'attenzione ma il pensiero perché l'attenzione ci deve essere sempre da una situazione pazzesca che in questo momento è molto molto grave fra l'altro vi ripeto per gli aggiornamenti su espansione tv è prevista un'edizione del telegiornale alle ore 19.30 stavamo dicendo che la Juventus sembra avere come obiettivo Teo Hernandez un obiettivo che non avrebbe solo la Juventus è uno colpo di mercato uno dei pochi che è riuscito quest'anno al Milan ricordiamo che Teo Hernandez è stato ingaggiato da Maldini in persona durante il mercato estivo fra parentesi è anche Teo Hernandez figlio di un calciatore importante ma soprattutto fratello di un difensore centrale altrettanto importante dall'Atletico Madrid è passato al Bayern Monaco Teo Hernandez rappresenta una delle tante scommesse perse dal Real Madrid che l'aveva strappato all'Atletico per 30 milioni di euro per poi rivenderlo al Milan a 20 milioni di euro dopo un inizio di stagione brillante che comunque si è prolungato anche in questo 2020 c'è stato un calo un calo fisiologico però adesso la sua quotazione è più che raddoppiata si parla di almeno 50-55 milioni di euro il giocatore è molto contento di essere al Milan e a Milano nel suo procuratore si sa che i procuratori solitamente sono sempre abbastanza avidi e forse guardano un po' troppo oltre quella che è non solo la realtà ma il futuro a breve termine ha già parlato chiaro ha detto che Teo Hernandez si trova bene al Milan e che vorrebbe restare assolutamente al Milan è blindato con un contratto di 5 anni un contratto che ovviamente dovrà essere rivisto per quanto riguarda il suo ingaggio però dipende molto dal Milan questo Milan che sta attraversando una fase l'ennesima fase di ricostruzione a tutti i livelli prima fra tutti dal punto di vista societario probabilmente lo sarà anche dal punto di vista tecnico però bisogna vedere cosa il Milan potrà offrire ai suoi giocatori le perplessità di cui si legge di cui si sa di cui si racconta riguardo a Ibrahimo Ibrahimović sono proprio legate a cosa potrebbe essere questo Milan dove è previsto il taglio degli ingaggi dove è previsto comunque il taglio dei costi e dove lo stesso Ibrahimović forse potrebbe essere di troppo ingombrante non tanto in campo ma appunto perché il suo rinnovo di contratto per la stagione 20-21 addirittura ammonta a 6 milioni di euro quindi Hernandez non è sul mercato ma in questo momento non si possono fare previsioni intanto meno su questa situazione Ecco rimanendo sul Milan Furio ti leggerei il messaggio di Jeffrey che ci scrive appunto Quinticino danno per fatta la vendita del Milan da parte di Elliot a favore di Arnault Elliot ha rifiutato 1,2 miliardi da Fridkin il nuovo proprietario della Roma siccome appunto il Milan l'ha già venduto mesi prima ad Arnault cosa c'è di vero? Guarda ti dirò mi sembra che di vero c'è che quello che dovrebbe diventare il proprietario della Roma che ovviamente adesso sta attraversando una fase di riflessione ha chiesto il Milan era pronto a offrire 1 miliardo e 200 milioni di euro ma il gruppo il fondo Elliot gli ha risposto che il Milan in questo momento vale 2 miliardi di euro è in vendita ma eventualmente è in vendita per 2 miliardi di euro su Arnault ci sono state molte smentite anche abbastanza robuste severe io ci credo poco il fondo Elliot comunque vuole tentare attraverso un'altra strada affidando al 100% la gestione del Milan a Gazzidis vuole tentare insomma di risalire la china dal punto di vista della classifica e di conseguenza anche dal punto di vista del bilancio e dei conti ecco a questo punto andiamo qualche minuto in pubblicità e ritorniamo tra pochissimo ci siamo e riniziamo con un collegamento si Melissa abbiamo in diretta con noi Antonio Paolino Juventinologo di provata fede e soprattutto competenza grazie Antonio per aver accettato l'invito del barbiere di Espansione TV grazie mille ciao ben ritrovato grazie a voi buona serata ben ritrovati ecco Antonio si cerca di parlare di calcio non giocato tantomeno allenato se mi passi se mi passi il termine ecco la Juventus come sta attraversando questo periodo che purtroppo è stato aggravato dalla quarantena e anche se comunque la situazione è assolutamente sotto controllo si può fare la domanda è azzardata ma so che sei sempre informato e che riesci anche a prevedere in un certo senso il futuro si può fare un'ipotesi su quando ci sarà di nuovo l'adunata alla continassa cioè dove c'è il campo di allenamento della Juventus il Milan ha posticipato doveva essere domani la ripresa ha posticipato di una settimana sulla Juve che cosa si dice così anche per farlo sapere ai tanti milioni di tifosi juventini che vogliono sapere quando e come potranno essere nuovamente vicini alla loro squadra ma guarda intanto fortunatamente la squadra sta bene fortunatamente parliamo di professionisti fortunatamente parliamo di persone fortunatamente parliamo anche di Rugani da cui è partito tutti tutto aspettavamo la notizia bene o male sapevamo che sarebbe stato contagiato anche qualcuno della Serie A questo è l'assurdo dei ragionamenti che facciamo si è provato a giocare fino all'ultimo e poi si è scoperto che qua e là c'era già qualcosa cioè qualche giocatore rimasto contagiato non si tratta di fare previsioni io nel frattempo ho aperto il calendario una delle cose che non facevo quantomeno sul mio pc perché la Juventus è in quarantena ovviamente ci sono praticamente 120 persone dello staff della Juventus tra dipendenti tra chi ha avuto contatti nelle ultime ore proprio nel pre post partita Juve-Inter con Rugani e non solo quindi ci sono 120 persone che sono a casa ognuno a casa proprio e quindi una Juventus che non può allenarsi di squadra la Juventus stiamo vedendo i giornali ci riportano anche noi come Radio Bianconera comunque qualche informazione qualche contatto qualche messaggio arriva da dentro non gli spogliatoi ma da dentro le case dei giocatori ognuno a modo proprio perché tutti stanno bene ricordiamo Rugani il contagio asintomatico quindi un giocatore che ha fatto i controlli martedì vado a controllare martedì 10 marzo quindi ci devono essere per quarantena da regolamento quei 15 giorni di assoluto distacco dal resto della squadra ma così anche per tutti quelli che avevano contatto con lui e di conseguenza anche l'Inter immediatamente messa in quarantena qualche giorno dopo anche l'arbitro che ha diretto la gara quindi il 25 se faccio bene i conti il 25 marzo sarebbe la data possibile per riprendere eventualmente gli allenamenti alla continassa certo che qui bisognerà andare oltre questa barriera riuscirà a capire se certo ritornando ad una pseudonormalità ma non solo per loro perché tornare agli allenamenti alla continassa in una Torino magari blindata a mio avviso farebbe alzare di parecchio la voce anche ai calciatori alle associazioni di categoria dei calciatori che a questo punto avrebbero di che dire sulla situazione di ripartire sulla decisione eventualmente di riprendere ad allenare anche solo allenarsi ecco ovviamente anche su Radio Bianconera si parlerà del coronavirus si parla di Juve qual è la percezione che hai parlando dialogando quotidianamente con le tue migliaia di ascoltatori di tifosi di gente che sta vivendo questo momento si ha già voglia di parlare di calcio oppure il momento è talmente drammatico e soprattutto imprevedibile il futuro per cui forse al calcio si pensa un pochino meno assolutamente quest'ultima risposta quest'ultima tesi all'inizio cioè noi ci siamo ritrovati naturalmente il popolo juventino quello interista un po' tutta la Serie A aspettava al momento questo ritorno di Conte a Torino questo Juve Inter del primo marzo gli slittamenti quindi si cercava di mantenere la normalità aggrappandosi a questo evento l'evento è stato giocato la Juventus ha anche vinto il giorno dopo abbiamo provato anche a ragionare così anche a prenderci un po' in giro ironicamente arrivavano messaggi di chi riusciva ancora a mettere davanti all'attualità lo sport poi certamente questa situazione è andata scevando poco per volta già dal giorno successivo con il decreto con i vari decreti che andavano a limitare restringevano così un po' la libertà di tutti è emerso fortunatamente quello che dovrebbe essere un po' il buonsenso civico di tutti noi quindi non si è parlato più di chi dovrebbe vincere lo scudetto di chi lo merita al di là degli sfottò teniamocelo noi diamolo a chi arriva terzo in classifica quindi l'Inter vince un altro scudetto questo è stato il post Juve Inter dopo invece la normalità il buonsenso il senso civico è noto ancora in questi giorni perché la radio ha questa fortuna un po' quel servizio che state provando a fare immagino tra mille difficoltà anche voi anche noi come radio abbiamo rispettato tutte le restrizioni del caso un tecnico nella cabina regia un giornalista un collegamento Skype tanti collegamenti telefonici ecco stiamo sfruttando il tempo anche per essere aiutati noi a ricevere un po' di carica di carica positiva perché ammettiamolo non l'abbiamo mai vissuto e quindi proviamo a sorridere a parlare riportare le notizie non le fake news non è colpa di Ronaldo che scappa non gli alberghi di Ronaldo non Rugani vedi sempre uno Juventino infetto cioè ne raccogliamo tante a un certo punto abbiamo capito che probabilmente il senso civico ha prevaricato ha superato però certamente non è facile proviamo a fare un po' di intrattenimento e togliendo da quelle che sono le informazioni tutte le le cavolate che vediamo circolare non solo in questi giorni ma anche in quelli precedenti quando molta gente e vedo in Europa che ci critichiamo sempre molto facciamo sempre molta autocritica ma mi sembra di vedere la situazione che stavamo vivendo noi tanto a me non capita ecco stiamo tutti lanciando degli hashtag andrà tutto bene ma i primi hashtag erano tanto a me non capita tanto io sono giovane vecchio forte ricco biondo alto brutto non lo so dovremmo renderci conto che non c'è categoria che non viene contaminata quindi attenzione a dire cavolate attenzione a pensare di essere superiori al nostro vicino Antonio sono d'accordo con te vorrei sapere da te un'ultima cosa quale sarebbe nel caso si tornasse a una parvenza di normalità soprattutto venisse debellato venisse attenuato venisse circoscritto questo problema quale potrebbe essere la soluzione migliore per il campionato mi riferisco e di conseguenza per la Juve anche quella per la Champions League e invece l'unica soluzione che non va presa soprattutto per il campionato le ipotesi possono essere tre o quattro quale sarebbe secondo te la migliore in assoluto per il calcio per tutti e per tornare ripeto a una parvenza di normalità in questo caso ci tengo a essere molto schietto io non sono ottimista e non sono uno che normalmente vede il bicchiere mezzo vuoto e tu lo sai ci incontriamo spesso ci prendiamo in giro ci stuzzichiamo ci pizzichiamo su quello che è l'attualità l'attualità sportiva io penso che questo problema lo ci si trascinerà non dico tantissimo ma il tempo necessario non sono uno scienziato e quindi non posso dire quanto io penso che la cosa più giusta da fare quella che sarebbe stata giusta fare anche qualche giorno prima dico qualche ora prima qualche minuto prima e non con dietrologia alla luce di quanto sta capitando che martedì 17 fra due giorni l'UEFA decida di sospendere gli europei perché decidendo di sospendere gli europei intanto daremo un segnale forte che abbiamo capito qual è il problema perché un europeo itinerante sarebbe una follia anche se andrà a cominciare tra qualche tra qualche mese soprattutto perché è un una macchina che va messa in moto se non era già in moto adesso quella soluzione darebbe la possibilità la speranza se le cose andranno in un certo modo di riprendere tutti i campionati ecco per la prima volta daremo una notizia brutta a furio fedele non so di non poter andare in ferie in vacanza a giugno a giugno ebbene ci troveremo negli studi televisivi ci troveremo qui e parleremo di un campionato che potrà essere potrà riprendere regolarmente e che poi vinca chi sarà all'ultima giornata davanti tutte le altre ipotesi mi fanno pensare ad una cosa sola che ognuno pensa ai propri interessi agli incassi ai soldi da non restituire a chi è davanti adesso a chi ha più punti a chi e poi c'entra sempre la colpa di Agnelli e della Juventus questo onestamente non per fare le vittime è un po' pesante io lo scudetto oggi alla Juventus non lo darei però certamente se fossero poi playoff playout tutto quello che volete la Juventus che prima ad oggi dico o che era prima al ventiquattresimo turno quando si sono svolte tutte le giornate dovrebbe avere quel piccolo vantaggio non posso pensare che una squadra il Liverpool in Inghilterra probabilmente con tanti punti 22 non so quant'è vincerà lo scudetto la Juve non ne ha così tanti nei confronti della Lazio ma che non si faccia troppo dietrologia né sia a favore della Juve né sia a sfavore della Lazio né sia a favore dell'Inter grazie grazie Antonio a presto buona serata grazie speriamo di rivederci non solo dal vivo ma anche qui questo check to check a livello di Skype e a livello degli studi appunto di espansione TV continua continua la nostra trasmissione continuiamo a parlare di calcio continuiamo a parlare anche di come il calcio il nostro campionato il calcio in Europa si deve inserire si deve comunque accomodare in una situazione di grande emergenza e di grande serietà e severità e nel frattempo fra poco avremo ancora con noi Emanuele Tramacere anche per approfondire quelli che sono stati i motivi e gli stimoli le suggestioni le suggestioni che ci hanno dato le vostre telefonate e gli interventi dei nostri colleghi e amici nel frattempo nel frattempo pubblicità ma restate connessi a tra poco a tra poco Eccoci Furio abbiamo subito Tramacere con noi Sì Emanuele Emanuele avrai seguito sicuramente un po' la trasmissione ci sono tanti spunti si parla sì di calcio ma si parla anche di quello che può essere il futuro non solo del calcio volendo focalizzare la situazione su quello che accadrà martedì che conseguenze potrebbe avere questa dilatazione della stagione fino come minimo e anche come massimo al 30 giugno sul mercato estivo andranno cambiate un po' le regole di ingaggio nel vero senso della parola ci potrebbero essere delle varianti di un prolungamento tu prima giustamente facevi riferimento a un inizio ufficiale delle competizioni anche a ottobre ne risentirà il mercato estivo evidentemente secondo te con quali paletti con quali limiti e magari anche con quali vantaggi ma sì sicuramente cambieranno anche le date del mercato va detto che il mercato ormai è datato tutto l'anno perché non c'è un club che si ferma nel corso dell'anno e le trattative vengono portate avanti anche in questo periodo in cui il campionato di fatto è fermo anzi forse in questo periodo tanti agenti direttori sportivi stanno sfruttando il periodo di sosta per iniziare a proporre le basi di quelle che possono essere le prossime operazioni estive il mercato cambierà questo non c'è alcun dubbio probabilmente slittando in là i campionati si allungherà anche il tempo in cui le società potranno fare mercato e probabilmente non cambierà però come dicevo prima il discorso dei contratti scadenza il 30 giugno quello dovrà essere risolto se non ci saranno deroghe necessariamente entro quella data il rinnovo dei contratti la chiusura dei bilanci di tutte le società dubito che cambi anche con la stagione che magari non si chiuderà quindi probabilmente tante operazioni verranno fatte anche a campionato ancora in corso per quelle società che hanno già ottenuto magari il loro obiettivo principale chi la salvezza chi la qualificazione ad una competizione europea chi alla Champions League ovviamente il campo è sempre una base da cui bisogna bisogna partire perché senza queste certezze ovviamente cambiano anche i budget per tutte le squadre di Siria non solo quelle di faccia alta ma anche quelle di faccia bassa Ecco Emanuele a questo proposito sicuramente ci saranno delle ripercussioni da un punto di vista economico potrebbe esserci anche secondo me un lato positivo cioè un calmiere dei prezzi degli ingaggi forse si ritornerà a una a una visione a una gestione un pochino meno forsennata isterica e soprattutto dissennata in certi casi visto che poi dopo ci si ritrova sempre con un fair play finanziario che a questo punto sembra che l'UEFA stia stia applicando in maniera molto ruvida e sensata sta facendo per il momento dovrebbe farne le spese il Manchester City ci sarà diciamo un ridimensionamento di tutto a tutti i livelli o ancora presto per dirlo oppure potrebbe essere solo illusorio e poi alla fine si ricomincia con tanti con tanti spreti e anche forse con una certa con una certa superficialità ma diciamo che per quanto riguarda la Serie A i club si stanno già di fatto un po' adeguando a quelli che sono i loro fatturati ovviamente questo periodo di crisi condizionerà anche i fatturati delle squadre quindi magari non vedremo una sessione a cui si stiva con cifre con cifre folli anzi magari vedremo tanti scambi volti a creare plus valenza e valore perché di quello negli ultimi anni hanno fatto diciamo i bilanci le società di Serie A medie e piccole con l'aiuto anche ovviamente delle grandi quindi credo che sarà un mercato di grandi scambi magari qualcuno anche di altissimo livello mi viene da pensare al futuro di Mauro Riccardi che oggi ad esempio non è interessato lui come giocatore al riscatto da parte del Paris Saint Germain anzi è intenzionato a tornare in Italia e restare in Italia che poi possa essere l'Inter o un'altra squadra questo lo vedremo però se l'Inter si ritroverà con Mauro Riccardi di nuovo su gruppone probabilmente aprirà ad uno scambio di alto livello per piazzare il suo cartellino e fare una plus valenza quella che si aspettava potesse arrivare dal Paris Saint Germain e che a questo punto mi sembra di poter dire che non arriverà quindi tanti giocatori si muoveranno secondo me non si vedranno grossi sborsi cash da parte delle società anche estere che di solito finanziavano il mercato in entrata delle squadre italiane vedremo anche sicuramente una riduzione del monte in gaggio per tante squadre per tante realtà una su tutte è il Milan perché a prescindere da come finirà questa stagione da quello che mi risulta Elliot ha comunque ribadito a Gazzidis l'amministratore delegato che da giugno a questo punto sarà plenipotenziario anche per le scelte sportive che di fatto il Milan dovrà tagliare qualcosa ancora sul monte in gaggi quindi non mi aspetto che ci possa essere il rinnovo di contratto di Gigio Donnarumma alle cifre attuali quindi se Donnarumma resterà il portiere del Milan o resterà con un anno di scadenza di contratto oppure dovrà ridursi l'ingaggio altrimenti verrà ceduto stesso discorso vale per tanti altri giocatori mi viene da pensare ad Alessio Romagnoli che ha chiesto un rinnovo di contratto che potrebbe essere il più importante della sua carriera in questo momento il Milan non è pronto a garantire un aumento di ingaggio a Romagnoli anzi per lui e per tanti altri si sta valutando l'ipotesi di trattare a ribasso eventuali rinnovamenti grazie grazie Emanuele abbiamo una telefonata fra poco fra poco ci ricollegheremo con Emanuele Tramacere di Calciomercato.com pronto sì buonasera Melissa buonasera buonasera chi parla e da dove sono Giuseppe e da Vigevano buonasera Giuseppe buonasera io mi viene in mente a parte quello che lei ha detto sugli indaggi che dovrebbero darsi una calamità un po' abbassarli certo e poi mi viene in mente un'altra cosa siccome adesso stiamo facendo un po' di sacrifici tutti io sono in casa con un pochino di febbre e non esco da nessuna parte certo una scelta giusta come italiani stiamo facendo qualche sacrificio per recuperare qualcosina ma qui i giocatori che adesso rientrano ai loro paesi poi quando ritornano magari sono un po' indietro con la guarigione da loro e ce la riportano da noi ma Giuseppe è chiaro che adesso il diffondersi del contagio è stato affrontato in Italia con grande tempismo rispetto a molti altri che addirittura facevano della facile ironia sulla pizza sugli spaghetti sulle soliti luoghi comuni pensassero a quello che mangiano loro all'estero il problema il problema è che bisogna poi cercare di livellare un po' la situazione sotto tutti i punti i punti di vista questo che lei espone è un problema sicuramente reale e potrebbe essere tangibile certo è che tutti i club ad esempio Ronaldo è andato in Portogallo dove la madre per fortuna si è ripresa da un malanno abbastanza serio Ibrahimovic è in Svezia per il Milan Leao è in Portogallo lì sono seguiti ovviamente e poi ci sarà ovviamente un discorso da fare a livello di club verranno prese tutte le precauzioni del caso certo è che poi quando si decide di ripartire sto parlando ovviamente del calcio bisognerà poi fare i conti con i presenti e gli assenti tutte le precauzioni verranno prese sotto tutti i punti di vista grazie grazie Giuseppe e nel frattempo sono contento di rivedere un grande amico un grande sportivo e devo dirlo anche un grande tifoso dell'Inter Alessandro presidente del Tribasei Alessandro prima ci ha telefonato Ivano l'ho sentito giustamente sconfortato aveva poca voglia di parlare di calcio e di Inter è stato uno spogo anche abbastanza emozionante e commovente perché stava parlando l'uomo e non con il tifoso innanzitutto come stai tu mi sembra posso dire in ottima salute esatto che è la cosa fondamentale e come state vivendo in assoluto Tribasei gli interisti ma un po' tutti una situazione dove il calcio passa sicuramente in secondo forse in terzo piano ma comunque si continua a pensare a sperare forse il calcio con tutte le sue contraddizioni ripartire sarebbe uno dei tanti segnali positivi dove la speranza diverrebbe una certezza a questo punto non so se sei d'accordo con me io sono d'accordo con te sicuramente però in questo momento è forse l'ultima cosa che mi interessa perché quello che mi interessa è ricominciare ad uscire di casa anche perché io furio mi spiace ma ho due gatti ho provato a segnare a fargli fare la pipì con la gamba alzata ad abbaiare ma questi non ne vogliono sapere è un problema uscire di casa però secondo me anche un po' di aria fresca poi adesso sembra che da domani questa potrebbe essere una beffa una contraddizione dovrebbe addirittura essere già primavera e sarebbe 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 bello poterla festeggiare non si festeggia nulla però vivere qualche qualche momento qualche qualche ora d'aria nel vero senso della parola che non farebbe male nessuno al di là del fatto per carità che bisogna stare il più possibile a casa però qualcuno ogni tanto si avventura a fare una passeggiatina con o senza gli animali al seguito tu cosa prevedere è una parola grossa e mi sembra troppo importante cosa pensi in questo momento? la vedo la vedo un po' lunga la cosa la vedo un po' lunga tu sai come club noi martedì avremmo dovuto fare la festa ti avevamo anche invitato si è vero tutto posticipato riproporremo la cosa penso a maggio in oltrato perché non credo che dal 3 aprile dal 3 aprile ricomincerà tutta la vita come prima ci vorrà ancora un po' di tempo perché purtroppo vedo vedo poca attenzione in certe zone prima non c'era attenzione qua quando la gente andava a sciare sembravano delle cavallette che andavano sugli impianti sciistici poi ho visto quelle fughe verso sud quello che penso lo tengo per me perché secondo me non è neanche tutta responsabilità della gente ma non lo so queste cose in un programma di sport non ne voglio parlare e comunque non credo che noi ad aprile usciremo di nuovo come prima e che ricominceremo la vita di prima ci vorrà un po' di tempo e non sarà aprile questo guarda ti dirò anzi complimentarmi con te perché mentre San Francesco parlava con gli uccelli tu sei riuscito a parlare di calcio con un Juventino e questa è una cosa da poco beh però ti devo dire che al dirì io non è che sono un grande sentimentale insomma vivo anche io in un mio mondo dove la prima regola è la salute e la seconda è il buonsenso però diciamo che sentendo anche vedendo anche parlando di calcio e tu lo conosci almeno come me anche magari forse da una prospettiva diversa e non meno importante forse per quanto tragica e drammatica questa situazione riporterà con i piedi per terra tanta gente tanti addetti ai lavori tanti calciatori tanti dirigenti tante società perché non si può vivere di eccessi si può vivere non dico di privilegi ma di competenze perché tutti noi li abbiamo nel nostro lavoro e nella nostra vita però secondo me secondo me insomma il calcio non avrà un ridimensionamento avrà finalmente una giusta collocazione e dei giusti parametri e dei giusti limiti dal punto di vista economico guarda io spero prego spero che beh innanzitutto volevo finire il discorso di prima io ero d'accordo col discorso finale del direttore di Radio Bianconera Paolino sì Antonio Paolino ero d'accordo con lui sul messaggio finale che ha lasciato e sono d'accordo con te su quello che hai detto adesso perché prima che succedesse prima che venisse il blocco di questo campionato finalmente erano venute fuori troppe polemiche troppe cose veramente negative e infatti mi hanno parlato l'ultima volta che ci siamo visti se ti ricordi il discorso del presidente di D'Alpino e di tutto il resto e soprattutto sono rimasto un po' sconcertato quando ho visto il giorno dopo alcuni tuoi colleghi di altre tv oppure addirittura gente molto sensibile di fronte ai poteri forti come gente di La Sette che si accanita contro il nostro presidente e poi la cosa ancora più brutta nessuna di queste persone poi è tornata ha fatto un passo indietro da uomo vero non ha fatto un passo indietro non è andato a chiedere scusa dopo le porcherie che hanno detto sul nostro presidente perché forse è stato il ragazzino il ragazzino viziato il presidente più giovane della Serie A che si permette di fare questo di fare quello forse è stato quello che prima di tutti ha visto le cose come dovevano essere viste questo è il mio pensiero e quindi di fronte a certe cose ci vorrebbe veramente un passo indietro riflettere magari chiedere scusa non è non è una dimostrazione di essere un cretino anzi forse vuol dire aver capito di aver sbagliato ed è anche il segno di miglioramento cose che a molte persone questa cosa non ha fatto a vedere pur non conoscendo il mondo inter avevo avuto da subito la percezione che lì non stesse parlando il presidente dell'inter o comunque il tifoso numero uno stava parlando l'uomo l'uomo fra parentesi non a caso ovviamente cittadino cinese che aveva già provato anche se in maniera indiretta o anzi in maniera diretta avendo lì comunque parenti amici eccetera che cosa stava che cosa stava succedendo sicuramente il suo modo di esprimersi è stato estremamente ruvido a parte che poi che poi chiaro clown e pagliaccio sono la stessa cosa ma fanno un effetto diverso da un punto di vista almeno dialettico non so se siete d'accordo con me però il significato il significato era preciso ecco però partiamoci chiaro certe persone come si sono comportati a partire dalla classe politica e non facciamo nomi non facciamo parti tanto si sa già a chi mi riferisco e anche gente che occupa i posti alti del calcio della serie A e tutto il resto hanno fatto una figura veramente da clown da pagliacci da persone inadeguate persone che dovrebbero prendere la borsetta e andarsene a casa perché questo ha dimostrato gente che non sa fare il proprio lavoro questo sì dove lavoro io se io faccio una cazzata del genere perdonomi il termine veramente mi portano su al personale alle HR e mi fanno pele contro pele questa gente invece no è sempre impunita è tranquilla post tranquilla la sua poltrona continua a far danni come un'epidemia che in Cina per due mesi ha fatto ha fatto disastri ha distrutto distrutto ha fatto di tutto quanti morti hanno fatto in Cina e la gente diceva un'influenzina una cosa tranquilla ma lì si sono ripresi non dobbiamo citare la gente non dobbiamo creare scompiglia tra popolazione ma dico vai a casa vai a casa perché è questo che devi fare ed è un peccato Alessandro spero di poterti rivedere anche in questa versione Skype grazie di tutto ci risentiamo ci rivediamo presto e ovviamente io sono sempre pronto per l'invito speriamo che sia il più presto possibile stavolta stavolta non la facciamo il martedì così vieni dall'inizio va bene grazie grazie mille grazie grazie Alessandro buona serata presidente dell'Interclub Trebasei forse potremmo anche avere un altro collegamento a breve siamo in chiusura queste due ore sono volate a dimostrazione comunque che anche in una trasmissione in cui si parla di calcio si può anche non parlare di calcio e comunque avere notizie e avere dei riscontri importanti nel frattempo non so se hai dei messaggi sì nel frattempo avrei un messaggio molto inerente a quello che già discutevate insieme a Tramacere e infatti ci dice il calcio come tutti i settori subirà forti danni economici che si rifletteranno sul mercato dei giocatori quindi prezzi più bassi e ingaggi inferiori ma da questa situazione chi ne può approfittare? ma direi proprio nessuno perché ad esempio sicuramente sicuramente il calcio visto che ha sempre voluto restare per carità io sono dentro da tanti anni ovviamente ci sono delle regole non scritte il calcio non potrà e non deve assolutamente usufruire se non in casi eccezionali di quelle che potrebbero essere delle 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 situazioni che invece dovrebbero e sicuramente saranno osservate per tante categorie professionali che non sono certe o privilegiate come quelle dei calciatori tantomeno le società che comunque hanno dei fatturati ben precisi hanno dei bilanci che devono essere altrettanto precisi vedremo che cosa succederà però ripeto un ridimensionamento farebbe bene a tutti nessuno nessuno escluso e intanto chiedo poi alla regia eventualmente eccolo qua lo aspettavo Michele Michele Borrelli collega ma soprattutto buonasera buonasera a tutti quelli che ci stanno ciao Michele amico ma soprattutto anzi collega ma soprattutto amico di Inter fan Inter fan ecco Michele il momento è quello che è c'è voglia di parlare di calcio ma forse anche sotto altri aspetti in una maniera un pochino più concreta come stanno vivendo i tifosi dell'Inter a questo momento tu hai una platea molto vasta addirittura trascorri le nottate in collegamento con altri emisferi con altri continenti approfittando ovviamente anche del fuso orario ecco che percezione si ha di questo momento e soprattutto qual è la speranza quali segnali di ripresa può dare il calcio anche ai tifosi a maggior ragione dell'Inter che sono lontani che stanno vivendo con grande apprezzione questo momento anche dal punto di vista calcistico ma in questo momento furio lo slogan che ha lanciato l'Inter together se team insieme come una squadra per donare anche alle strutture sanitarie che hanno bisogno fa capire ma anche lo riscontriamo nei messaggi dei tifosi quotidianamente che in questo momento il rettangolo verde è l'ultimo pensiero cioè la partita da giocare è quella della salute prima sentivo in collegamento il presidente dell'Interclub Trivasei Alessandro Danna che faceva riferimento a Zhang Zhang quando anche ci sono state le varie polemiche questo non è stato secondo me sottolineato non ha mai parlato di calcio ha sempre messo al primo posto nei suoi discorsi cioè stava facendo come dicevi anche tu un ragionamento che esulava dal campionato non campionato diceva semplicemente la salute al primo posto e poi tutte le altre decisioni di conseguenza e la partita che si sta giocando in queste ore riguarda anche la solidarietà e mi piace ricordare in questo momento anche le iniziative visto che parliamo in questo caso dell'Inter delle iniziative dell'Inter che è partita con 300.000 mascherine un po' di tempo fa la città di Wuhan poi in Italia il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile altre 300.000 mascherine poi la prima donazione di 100.000 euro all'ospedale Sacco per la ricerca poi ci sono state altre 500.000 euro nei giorni scorsi con tutti i componenti della società compresi i giocatori e poi il lancio di questo crowdfunding raccolta fondi tra i tifosi che sta andando molto molto bene sono arrivati già a 55.000 euro ed è notizia proprio di questi minuti il ringraziamento del Presidente della Regione Lombardia Fontana proprio verso l'Inter perché sono arrivate altre 65.000 mascherine all'ospedale di Bergamo e 21.600 a quello di Lodi e poi mi piace ricordare anche proprio il Como Calcio in questo contesto che è stata una delle prime società che ha anche donato 100.000 euro ma tutte le società tutti gli sportivi oggi non solo slogan ma stanno cercando di fare questa gara di solidarietà che coinvolge tutti e tu mi dicevi dei tifosi e i tifosi quasi mi rimproverano quando voglio dire per un po' di tempo parliamo di storia qualcuno sta lanciando le pillole di storia visto che il calcio è fermo oppure come si può ricominciare visto che ci sono state tante polemiche stavolta a freddo cerchiamo di pensare a una ripartenza fatta in un certo modo regolamentata e la maggior parte dei tifosi dice no adesso annulliamo tutto annulliamo tutti io so che ovviamente nel calcio ci sono forti interessi e non si può semplicemente chiudere la sara cinesca come se niente fosse e bisogna quindi ripensarla bene la ripartenza però in questo momento il pensiero di tutti gli appassionati almeno quelli che ci scrivono è davvero rivolto a chi in prima linea in Lombardia in Italia soprattutto in Lombardia sta lottando e purtroppo poi intorno alle 18 18.30 arrivano anche gli aggiornamenti che in questi giorni non sono positivi però mi ha colpito molto l'intervista di Cannavaro oggi perché Cannavaro ha portato lo spiraglio di luce in fondo al tunnel dicendo qui ce l'abbiamo fatta e come hanno fatto rispettando in modo molto severo e rigido le regole sto parlando ovviamente della Cina anche in città dove si era a mille chilometri o più di distanza dall'epicentro dall'inizio del contagio quindi da Wuhan quindi questo è molto importante in Italia che chi non percepisce in questo momento forte il pericolo anche se il 90-99% credo che l'ha recepito che è quello di un'espansione troppo grande rispetto alle strutture sanitarie del contagio che possa appunto rispettare in modo ferreo le disposizioni perché questo ci porterà a un ritorno alla normalità più prima che poi perché oggi nessuno vuole fare pronosti sì però infatti il calcio comunque se riparte il calcio che è praticamente un'entità trasversale non ha limiti non ha confini né in Italia né nel mondo se riparte il calcio è forse il segnale più importante non più importante da un punto di vista emotivo non certo da un punto di vista pratico però insomma potrebbe essere proprio il calcio uno dei locomotori che fa ripartire tutto io Michele per il momento ti ringrazio Michele Borrelli di Inter Fan Club di direttore di Inter Fan Club ci vedremo presto ma speriamo di rivederci ancora qui ovviamente sui schermi di Espansione TV grazie e buon lavoro Michele ciao noi siamo quasi in chiusura mi piacerebbe scambiare le ultime battute eventualmente con Emanuele Tramacere dalla sua postazione anche perché si parlava di mercato un mercato che rischia di avere dei limiti ben precisi a proposito anche delle plusvalenze che rappresentano ancora un adesso diciamo un elemento non molto chiaro di quello che è la gestione economica del calcio non solo in Italia ma in assoluto in Europa tu hai segnalazioni da fare a proposito di tablet credo che abbiamo risposto a tutti sì vi ringrazio che sono arrivati tanti contributi appunto anche dai telespettatori sia sul tablet di Melissa sia da un punto di vista delle vostre telefonate parleremo ancora di questo ovviamente martedì nel barbiere la tradizionale puntata la tradizionale trasmissione in onda dalle 21 e 20 fino alle 22 e 40 sempre qui dagli studi di espansione tv vi ricordo che martedì 17 avremo anche delle novità delle novità importanti che arriveranno da Nion dalla sede dell'UEFA dalla sede del CIO si deciderà praticamente il destino dello sport non solo a breve ma anche a lunghissimo termine ci sono le olimpiadi giapponesi con i giapponesi che con grande orgoglio ma anche evidentemente forse con eccessiva presunzione pensano di poter andare avanti pensano che ad agosto tutto questo potrebbe essere già finito si parlerà di spostare i campionati europei o gli europei di calcio di un anno un'operazione più semplice rispetto alle olimpiadi intatto ecco Emanuele Tramacere in collegamento Skype Emanuele un'ultima curiosità a proposito di plusvalenze mi sembra che siano nel mirino un po' di tutti anche dell'UEFA si cerca di dare di fare un po' di ordine in questa in questa consuetudine che forse ha preso un po' troppo in largo sia un po' troppo dilatata anche in maniera un po' eccessiva Sì sicuramente il problema delle plusvalenze ne parlavamo anche prima è diventato forse una delle voci più importanti nei bilanci di tutte le società italiane quindi la UEFA e la FIFA stanno cercando di regolamentarle al meglio e stanno cercando di ridurre a questo scopo anche i prestiti e soprattutto i prestiti con diritti di riscatto che in realtà sono poi trasformati in obbligo tramite scritture private già un paio di norme sono state fatte nel corso degli ultimi due anni anche in vista della prossima stagione di calciomercato avremo una riduzione drastica del numero di prestiti concessi alle società di Serie A e non solo quindi anche a tutti i club europei quindi vedremo come cambierà anche questa gestione io mi aspetto ti dicevo prima un grosso numero di scambi fra club magari i giocatori a titolo definitivo e questo potrebbe portare al generale delle plusvalenze che comunque restano fondamentali per i bilanci soprattutto dei club di Serie A probabilmente saranno un po' di meno dal punto di vista numerico ma magari da un impatto un po' più alto dal punto di vista economico prima ti parlavo del caso Icardi non è ovviamente l'unico ci sono anche tanti altri giocatori che soprattutto dalle piccole potrebbero andare nei grandi club sto pensando magari a Tonali del Brescia a De Paul dell'Udinese Castrovilli la Fiorentina non è una piccola però è un giocatore che è appetibilissimo per le bighe anche Chiesa un altro di quei giocatori insomma sono tanti giocatori di fascia medio-alta che potrebbero generare per i club di fascia medio-bassa grossi numeri di plusvalenza ovviamente i club di Serie A di fascia alta dovranno ovviamente metterci qualcosa sul tavolo magari qualche giocatore giovane qualche scarto da poter reinventare nelle nuove grazie Emanuele ne parleremo ne parleremo con te domenica prossima perché approfondiremo sarà passata una settimana una settimana intensa una settimana che dovrà dire gran parte della verità se non tutta la verità Melissa grazie a te grazie a chi ha lavorato in regia grazie a tutti voi e ci rivediamo col barbiere martedì sera buona serata a tutti buona serata grazie a tutti